Ciao tesori e bentornati nel mio mondo! Su questo canale parliamo di arte e creatività facendo scemità quindi se ti interessano queste cose potresti iscriverti Allora, eccoci con un nuovo scopriamo le creazioni in resina con i nuovi stampi di Gea Creations almeno penso siano tutti nuovi, sì, tranne questo che lo sapete è uno dei miei preferiti poi sono tutti nuovi ma non sono tutti i nuovi che vi ho fatto vedere nello scorso unboxing e vi ricordo che sul sito di Gea potete utilizzare il mio codice sconto Allora, vi dirò la verità, non ho fatto proprio tutti gli effetti che volevo perché, soprattutto in queste, perché ieri dovevo testare dei pigmenti e quindi ne ho approfittato e ho preso due piccioni con una colata di resina Allora, andiamo a vedere come sono, anche se appunto sono molto semplici però eccole qui, sono le gemmine che adesso tutte colorate le tolgo prima tutte, sembreranno le gemmine dei Pokémon Sì, eccole qui, guardate che belle Sì, perfetto, sono proprio quelle dei Pokémon Adoro Queste comunque fatte a spille sono super carine e sì, cambiano continuamente colore perché sono pigmenti cangianti quindi cambiano colore in base all'inclinazione della luce Ok, comunque, con questo stampo faremo poi altri esperimenti Questa è ovviamente la creazione più succulenta dello scopriamo Che cosa sei tu? No, niente, ok E ve la farò vedere per ultimo Con gli stessi pigmenti ho fatto le mie lunette adorate Anche queste vado prima a tirarle fuori Poi ve le faccio vedere tutte insieme Ok Che poi, mamma mia, queste con i pigmenti anche solo leggermente specchiati sono uno spettacolo Mamma mia, sto amando alla follia questa Quanto è bella E quanto sa di tramonto estivo Bellissimo Beh, anche questa, eh Anche questa Ha il suo perché, però Questo colore mi ha colpito particolarmente Che bello Non vedo l'ora di farci le collanine Molte di voi, dal video dove vi ho mostrato i nuovi stampi volevano vedere il segnalibro E mi pare cuori sacri Vabbè, comunque ho cercato di accontentarvi con uno dei segnalibri Poi gli altri stampi li faccio negli altri scopriamo Allora, vediamo questo Con tutti questi charms Un po' esoterici Allora, c'è questo Wow Adoro Adoro Che sia venuto pure questo effetto Cioè, chi non conosce l'effetto Voglio dire Vediamo questo Vedete, questi sono infatti super semplici Cioè, sono spennellato questi pigmenti magici dentro E ovviamente È bastato Oh, questa l'adoro Dio, questa l'adoro Questo stampo penso lo utilizzerò per sempre Perché io adoro le falene, le lunamotte, eccetera È adorabile Poi L'ultimo che sono riuscita a fare ieri È questo Che Wow Con questi colori mi piace da morire Penso che non andrò a rifinirle con nessun colore Questi Perché Ma Mi piacciono così Onestamente Voi cosa ne pensate? Cioè, vedete? Per me vanno bene così Di queste sono molto curiosa Perché qui ho utilizzato un pigmento specchiato rosso Mai utilizzato in vita mia E non vedo l'ora di vedere l'effetto Quindi Andiamo a vedere Questa lanterna Wanam Wanam Scusate, la devo vedere dal vivo Ma sei davvero così brillante Oddio Ma è Cioè, sembra che Che brilli di luce propria È bellissimo Questi poi andremo a rifinirli Con l'oro Vediamo quest'altra Però qui il pigmento è diverso Questo è un Chameleon Che va dal verde al rosso E per questo tipo di lanterna Ci stava bene E Effettivamente sì Bella Mi piace anche questa Però mi ha colpito molto di più Questo rosso così acceso Cosa? Vediamo Ah sì I cuoricini Che carini questi Sono proprio carini carini Wow No, vabbè Mi piace un botto Bellissimo Poi utilizzato Con il nero di base È tutto un programma Cioè Wanam È troppo bello Poi il fatto che questo pigmento Sia in flakes Vedete Fa proprio Questo effetto Tutto venature No, vabbè Stupendo Va giù Troppo bella Già La verità Quando Ancora i pigmenti Ancora tutto gosso Sign up Allora Vediamo Questi Non vedo l'ora Non vedo l'ora Di vedere questi Tra l'altro Ragazzi Ma che cosa bella Che queste creazioni Abbiano già Il Bughino Per fare il ciondolo Stupenda Questa cosa Ok Questo è il primo Che ho fatto Questi li ho fatti Con Lo stesso pigmento Della lanterna Non vedo l'ora Di decorarli Con L'oro Onestamente Perché questi Con l'oro È la morte L'oro Ma Simbatico Però Incredibile E questo Madonna Sto rosso Ma cosa sei Ma è bellissimo No No vabbè Questo col l'oro Sarà spettacolare Sarà Veramente Spettacolare Allora Vediamo ora Il teschio Del gatto Di questo Trovate super Curiosi Io l'ho fatto Col bianco Stamperia Qualche goccia Che stava nel pacco Di già creations E poi Ci ho messo Del film Iridescente Dentro Ma Non Ok Ok Allora A parte del colore Mi piace un botto Come è venuto Così Soffuso Bellissimo E Mi piace Anche l'effetto Perché Non lo so Sembra Creato Da qualcosa Di Magico Guardate Oddio Che Carino Comunque davvero Super bello Questo bianco Stamperia Cioè Bello Questo effetto Soffuso Ho messo Due gocce Non volevo L'effetto coprente Però Bello Bene Vediamo Il segnalibro Questo l'ho fatto Molto semplice Allora Con un pigmento Scuro In cui poi Ho messo Una spolveratina Di chiamillion Blu E poi Ci ho decorato Su Ho voluto Fare L'effetto Nuvole Con un pigmento Iridescente A base Blu Tutto quello Che ho detto Sembra molto Figo Ma Mi piace Vorrei Non ci posso credere Ma se è veramente così Dal vivo No Vabbè Cioè Raga Ma guardate Che bello Sembrano davvero Nuvole E Sembra E sembra Anche un effetto Molto 3D Wow Ma è bellissimo Wow Wow Bellissimo No Troppo Bell Troppo Bella Anche questo Verrà decorato Con Non Non Saccia Avrata Non Non Saccia Ok Sono super contenta Perché vi dico la verità Non mi aspettavo niente Da questo scopriamo Ma proprio niente Zero totale E invece Ok Adesso speriamo Che appunto Quella più importante Sia venuta bene Perché ieri mi sono messa Con la santa pazienza Cioè Eravamo proprio Io e pazienza Seduta alla scrivania A decorare la luna E le nuvole Quindi Vediamo un po' Come è venuta Poi questa va tutta Decorata dopo Ok Ok Pronti Allora Eccola qui Non mi dispiace Però la devo vedere decorata Sicuramente Vedete Si sarebbe vista Molto meglio La luna Con Un colore Di sfondo Scuro Però non potevo farlo scuro Sennò Non sarebbe venuta La luce della lanterna Allora Ritaglio Rifinisco E torno subito Da voi Ok Tesari Ho finito di decorare Queste Non le ho decorate Come vi ho detto prima Giusto per farvi Il recap Delle creazioni Che abbiamo Scoperto oggi Allora Questo È il risultato Finale Del segnalibro Lo amo È bellissimo Poi Allora Questi sono I cuori sacri Eccolo qui Fatto con L'oro Però Ultimamente L'oro Non mi convince Molto Devo trovarne uno Che mi convinca Di più Ne voglio Uno molto più brillante Questo è tutto oro Antico Ah guardate anche Questa Quanto è venuta Carina Anche questa Mi piace tantissimo Perfetta per farci Una collana E anche questa Che se qui Si vede meno L'effetto Rispetto a questa E Adesso vi faccio Vedere La Lanterna Allora L'ho decorata Con Inca gold Blu Elettrico Lasciando Qui lo spazio Vuoto E guardate Che bell'effetto Soffuso Che è venuto fuori Perché mi dispiaceva Togliere questo effetto Alle parti opache Incise E quindi ho detto Vabbè dai Magari lo lascio lì E mi piace Un casino Perché è venuto Proprio Bello Soffuso Soffuso E mi piace Certo Qui c'è da sperimentare Non si vede tanto Lo sbrelluccichio Della luna Perché la base dietro È trasparente Ci sta Però mi piace Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Ovviamente scrivetemi Qual è stata la vostra Creazione preferita Di questo scopriamo La mia Assolutamente Il segnalibro Della luna Perché Basta C'è Mi ha veramente colpita Come è venuto Grazie mille Per sopportarmi sempre Io vi mando Un grandissimo abbraccio E ci vediamo al prossimo video Ciao Sì A giudas bat Vicino cavalletto Esatto Questa ve lo Io farò vedere Anche senza luce Cioè Con un po' di luce Bellina E anche questo Senza luce Delle nuvole Delle nuvole Delle nuvole